Il parroco della parrocchia Sacro Cuore di Agropoli, responsabile dei locali dell'oratorio padre Giacomo Selvi, don Nicola Griffo e quattro volontari dell'Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace, parteciperanno ad una missione umanitaria nei campi profughi Saraui dal 23 febbraio al 5 marzo. Tra questi Antonio Giacco, presidente dell'Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace, Francesca De Padova, volontaria e responsabile accoglienza, Luisa Piscopo, volontaria e responsabile dei volontari e Matteo Corona, volontario e responsabile dei rapporti istituzionali Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace. Chi vorrà potrà dare il proprio contributo economico e donare medicinali da banco come antipiretici, cerotti, antinfiammatori, antidolorifici, collirio, pomato e per contusioni, fermenti lattici oppure materiale scolastico. È possibile contattare Don Nicola Griffo, presente presso la parrocchia del Sacro Cuore ad Agropoli e Antonio Giacco al numero 333 95 91 406 oppure Francesca De Padova al 329 82 96 063. L'iniziativa gode del patrocinio morale del Comune di Agropoli.